Il cambiamento delle ex uomini e donne Paola Frizziero aveva lasciato tutti senza parole. Adesso, ad intervenire è Carina Cascella. Chiamata a rispondere da alcuni fan, non ha avuto peli sulla lingua. Paola Frizziero, da parte sua, aveva spiegato le ragioni del cambiamento. Un cambiamento spirituale, dopo l'esperienza nel dating show di Maria De Filippi ha totalmente cambiato vita e si è avvicinata alla religione. Il si è fatta la tua volontà l'ho vissuta come esperienza. Soprattutto quando ho dovuto fare scelte importanti di lavoro. Io guadagnavo tanto, facevo serate. E in quel momento sentivo forte nel mio cuore che dovevo lasciare un po', mi dispiaceva. Dicevo, ma com'è possibile che mi stai chiedendo questo, perché hai scelto me? E poi quando mi sono fidata e gli ho detto l'ok, sia fatta la tua volontà. Dio mi ha dato 300 volte di più. Mi ha dato una famiglia, un lavoro. Ho lasciato il passato ma ho tanto di più. Grazie a Dio sono riuscita a terminare gli studi e oggi insegno. Ho ricevuto tanto. Di come è cambiata Paola non ne vuole sapere Carina Cascella, che proprio con Paola si contese l'amore di Sasange Luci. La sua risposta non lascia spazio a possibili tentenamenti. Ragazzi, ciao. Oggi mi state inondando di domande, mi state mandando video, foto. Mi chiedete cosa penso dei capelli di una, della fine della relazione di un'altra. Vi dico la verità. Non mi interessa minimamente di come porti i capelli une e del motivo per cui si lasciano altri. Sono un po' al satura, e l'ho scritto anche ieri, della pochezza che vedo in giro. Siamo arrivati per me alla frutta per tanti versi. Penso che ormai ci si interessi solo a cose senza senso e lì si è tutti pronti a ripostare video e a far girare notizie davvero stupide. Poi quando invece ci sarebbe da parlare e scrivere fiumi di parole, tutti tacciono. Pensate a cose più importanti ogni tanto e fate girare notizie che aiutano davvero qualcuno. A me non mandate più nulla del genere. Grazie.